Lanciamo un messaggio ai giovani imprenditori che hanno paura di mettersi in gioco e lo facciamo con Andrea Marangione. Sì, buongiorno. Allora, la nostra terra è una terra ricca di necessità, una terra ricca di opportunità e di abilità. Dove sta il rischio c'è appunto il progresso, c'è l'opportunità. Quindi invitiamo tutti i giovani che oggi stanno studiando e che si stanno mettendo alla prova nel mercato del lavoro a imprendere, a intraprendere, perché da lì nasceranno le aziende che alimenteranno il futuro del nostro paese. Non abbiate paura e mettetevi in gioco. Assolutamente no, per favore fatelo.